Allora, io ho cercato di liberarmene e invece non ce l'abbiamo fatta e tra l'altro vieni con delle parrucche... L'erba cattiva non muore mai... Con delle parrucche sempre più alte, cioè io non ho neanche i tacchi... Se basta tesoro, non ci possiamo... Saluta il nostro pubblico... Ciao pubblico... La diva della serata... A prescindere sempre quella eh... Io... Con un nuovo nome, ricordalo al pubblico... Malinda Goldone... Sei divertita? Sì, tanto... Hai preparato dei pezzi nuovi? Sì... Queste parrucche, questo look nuovo, nome nuovo, look nuovo, parrucche nuove... Bisogna cambiare nella vita, io vado controcorrente... Non oso immaginare la prossima volta in che vestiti vedrò... Vedremo, vedremo... Allora ti aspetto alla prossima volta... Alla prossima, buonanotte... Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonarsi però non così vicino, mi da fa sì... Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare... E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest... La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117... Ah, si vincono anche dei premi eh, io vi aspetto sul palco, sono qua all'Ibari Caffè... Bulli e Puppe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì all'Ibari Caffè di Voghera... Posso? Abbiamo finito? Ok... No, almeno... No, tira sulla telecamera che... Non ho solo le scarpe, non ho solo le scarpe...